Per sua moglie, per i suoi figli. E quando un operaio muore perché non si sono rispettate le più semplici norme di sicurezza, il giorno dopo tutti ne parlano e tutti gridano allo scandalo. Ma poi tutto ricade nel silenzio. Questa è la copia del documento che voi avete fatto per venire al nostro nemico. L'abbiamo trovato fra le vostre carte. Dovete spiegarci parecchie cose sul vostro ufficio straniero, dottor Palatucci. Non ho niente da spiegare. Ho fatto solo il mio dovere. Ceddi! Ceddi! Vieni fuori, ho detto Ceddi! Stai giù! Stai giù! Me l'hai ripetuto mille volte! E adesso lo sai che cosa significa? Eh? Lo sai che cosa significa? Che mi hai mentito? I tuoi tormenti? Le tue paure sugli interrogatori di concato? I tuoi pianti? Tutta finzione! Perché ogni tanto succedono delle cose brutte. E questa volta è successo alla tua lomba. Omara fa paura. A così, dice la gente, guardando Omara calma come una tavola. E di ciò stesso pure in delle giornate di erano, quando Omara sa'izia, e l'onno sa'izia, prima a Palazzo Casa, e poi a Montagna. I guanno usento, specialmente notte, quando batta a scugliera, e pote ma le braccia, e spalle e gambe, arraccioso con me, non sa nemporto. Usare un fratt fallimento non diveли, qua e diverse le braccia risponde per la maniera. Queste live sul e views e views edite e